Mi disse Guido, scherzando, e dice guada bene di segnarti col pennarello i reni che ci hanno da operarti perché non si sappiano a sbagliare. Il caso risale all'aprile del 2016. A distanza di tre anni, finalmente, il processo è arrivato al capitolo della richiesta delle condanne per i medici responsabili di un clamoroso errore in sala operatoria. Vittima all'imprenditore Guido Dal Porto, al quale nel 2016 all'ospedale San Luca di Lucca, venne asportato per sbaglio il rene sano invece di quello malato. Dopo quello che ho passato, dopo quello che mi avevano scoperto, dopo la speranza che almeno qualcosa nella vita cominciava a prendere una certa piega, urene mi era rimasto, prospettive di vita, sì, vabbè, in una certa maniera, però, insomma, urene c'era. Più che altro avermi torto un male che poteva prendermi da tutte le parti. E poi di punto in bianco scoprire che non è che tu sei al punto di partenza, sei ancora peggio. Il pubblico ministero ha chiesto tre anni e mezzo per la radiologa che aveva rifertato la TAC e quattro anni e mezzo per i due urologi che si trovavano in sala operatoria. Dal Porto, inoltre, ha avanzato una richiesta d'anni per 1.400.000 euro e 600.000 di provisionale. Grazie. Grazie.